Allora siamo in attacco su caffè Grazie jungly sono col seto che mi piaccia E a breve aggiungerò una nuova sezione Ehm, ok, white stealth window One One low in freezer Dead Ah io di arco caffè Can you open this? Yeah Vabbè, dovrò romperli con l'hard bridge Oh ma Where is cock the launch? Mi vedete là? Dov'è? 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 Ovviamente Ma anche io ho visto qualcuno E io ho visto qualcuno Lo faccio a trovarmi una squad Potremmo provare la giocata pazza sgravata Figlia di Gesù Perchè ho 130 fps? Dove riaprire Sa che devo riaprire il gioco ragazzi 120 fps Sì 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 non c'è più colpi per quello cristo dio moriva è in sega non c'è più l'unico non c'è più l'unico B2, B2, B2 Sto in pin 2 Default bomb Go 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 Nice Buono così ragazzi Che palle raga Ciao zi come va? Se vuoi il progetto R6 basta abbonarti e chiedermi Cioè scrivermi in privato la tua mail Allora, ma purtroppo raga vi ricordo che non c'ho FPS No Alla net E' bandit Ok 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 Manage l'ultimo giorno La britis La britis Ok 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 so 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 Ah mamma mia wasca appicchata io Ok, guarda, 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 guarda HITCH! Ok oh ma non voleva entrare dalla baduna di nuovo ma mi dispiace tantissimo c'era una come è possibile questa cosa oh mio dio non è potuta riuscire di nuovo io c'è un attacco ma anche il senso no vabbè però se non c'è un attacco se veramente guardate raga questo è il bait questa è la gu bait lui entra spara alla gu e io gli spreio addosso kaido non mi rompe regoglio guarda qua la gu bait one knocked no don't romp in the game ok come and watch no wife you can't go revive me no i can't no you can't he's white still can't go red he's on me on me no ok no 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 no